Soli dinanzi all'immenso, al grande mistero della vita, Soli dinanzi all'esistenza ci porta spesso, per paura, a rinchiuderci. Abbiamo detto in precedenza, ma anche più volte anche negli ultimi tempi, che è importante per vincere la solitudine negativa e vedere il bene che vi è in questa solitudine, come già abbiamo iniziato a fare, è importante chiedersi chi sono, è importante. Ma attenzione, che questo non basta, perché il chi sono molte volte ha dei rischi, se non vi è una vera consapevolezza di se stessi, della provenienza di se stessi. Il chi sono spesso mi può portare anche a degli sbagli, a credermi potente, unico, irripetibile perché sono potente, perché sono il fautore della salvezza. Il chi sono mi può portare anche appunto a vedermi soltanto io. Allora, la vera domanda, o le vere domande, sono chi sono, ma deve sempre scaturire questo chi sono, deve sempre essere seguito da di chi sono, cioè a chi appartengo. E l'essere unici, dinanzi al mistero della vita, non significa che io sono l'unico e gli altri non sono nessuno, no, io sono unico in quando appartengo alla società. In quando appartengo, ecco qui la nostra fede, come uomo e come creatura di Dio, come battezzata, al genere umano e come battezzato alla Chiesa. Dio ha creato l'uomo, ma non ha creato solo quell'uomo. ha creato me, te, ma me e te in un noi. Ecco che il senso di appartenenza, riscoprire il senso di appartenenza a questo mondo, a questa umanità, riscoprire il senso di appartenenza ad una comunità, riscoprire il senso di appartenenza alla Chiesa stessa, vuol dire riscoprirsi unici e irripetibili. riscoprirsi persone che hanno un significato su questa storia, in questa vita, e che nasciamo per un progetto, che nasciamo per vivere questo progetto, che è un progetto qualunque sia, sempre e solo d'amore, è un progetto che dovrebbe sempre e solo produrre, creare, costruire felicità in me stesso, e felicità negli altri. Ci vediamo domani, pari più TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!